Ciao ragazzi! Allora mia moglie di Impol sta preparando una ricetta di carote. What do you put inside? What do you put? It's a carrot and potato. E patate. E for sure it's a barley. Lo sapete quanto costano le cipolle qua? 100 euro al chilo. Sono le cipolle più costose del mondo in Filippine. Questa è una specie di cavolo cinese, poi fagiolini, le cipolle quelle meno cariche, cioè quelle selvattiche, perché queste qua in Filippine costano dai 50 ai 100 euro al chilo. Curry? Poi ovviamente, ah sì perché vuole fare una ricetta indiana, quindi il curry e la polvere di noce di cocco. Quindi questa qua è una maniera tradizionale, praticamente con le noci di cocco, con i gusci di noci di cocco si prepara il fuoco e poi questo qui praticamente è attaccato all'elettrico, manda l'aria per alimentare il fuoco così si può cucinare. C'è un motorino elettrico che manda una ventolina che manda l'aria e quindi si può cucinare il pollo che è chicken and carry, cioè il pollo al carri un po' alla maniera indiana, perché comunque a Debbie piace anche cucinare cibo indiano. Quindi ha aggiunto l'aglio adesso e quando l'aglio diventa dorato aggiungo gli altri ingredienti. Adesso mette le cipolle e il peperoncino verde che qua praticamente lo trovate anche per strada, perché qua in Filippine quando fate la passeggiata potete trovare le melanzane, infatti in un video c'è che io stavo camminando e ho trovato le melanzane, i peperoncini, insomma c'è un sacco di cibo. Queste sono foglie di alloro e poi trovate gli alberi di noce di cocco, la papaya, il mango e le banane. Cioè tutti gli alberi da frutto meravigliosi che crescono spontanei da queste parti. Quindi queste sono noce di cocco, vedete diventa carbone di noce di cocco. Cioè hanno le noci di cocco, gli fanno fare una procedura che diventa carbone. Che qua noce di cocco, guardate c'è anche qua, adesso ve la faccio vedere. Vedete questa è una noce di cocco, adesso metto la mia mano così capite quanto è grande. bella grande. Poi c'è sempre qualcuno che canta e che suona perché sono un popolo che canta e che suona, canterino, anche i vicini stanno sempre cantando, facendo il karaoke. che a volte insomma ci piace, a volte noi italiani siamo un popolo anche che ama la pace e il silenzio. Quindi all'inizio mi piaceva questa cosa del karaoke e poi dopo qualche tempo diciamo che meno perché comunque tutti i giorni il karaoke sfido a chiunque. Quindi oggi è il compleanno di qualcuno dei vicini. Adesso cosa hai aggiunto? Il curry? Niente. Adesso hai aggiunto il curry e il pepe nero. quindi adesso sta aggiungendo patate e carote così è un bel mix di pollo, verdure e acqua calda. e si lascia amantecare un pochettino perché fa un brodino. Quindi adesso vedete come si fa. Quindi mette le noci di cocco, il carbone di noci di cocco qua e poi spinge poi la ventolina, soffia e accende qua. Vedete? Adesso ha preso fuoco bene il carbone. Quindi adesso sta iniziando a bollire. Quindi adesso ci ammorbidiscono le patate, le carote. Diventa un bel brodino. Allora qua in Filippina ci sono un sacco di queste, vedete? Queste lucertoline però dice che ci sono delle lucertole grandi anche 20-30 cm. Lo chiamano tocco e fa un suono particolare. Io una volta sono andato in una casa e l'ho sentito e fa tocco, tocco, però non l'ho vista. Dice che sono delle lucertole grandi come dei ruspi. Lucertole giganti e sono inoffensive. Qua invece potete vedere tutte le sere scendono. i gecchi, i gecchi, è pieno di gecchi. Quindi l'aria è fresca la sera e poi c'è sempre gli alberi da frutto, quello è un mango. Poi queste casette di bambù. E qualcuno che suona sempre o che canta. Quindi le patate sono quasi pronte e si possono aggiungere i fagiolini. Quindi adesso si lava il cavolo cinese, si lascia l'acqua e poi quando per ultimo si aggiunge nella ricetta. Assieme alla cipolla selvatica. Perché comunque se venite in Filippina è anche un viaggio di sapori. Perché hanno un'ottima cucina. Anche la cucina indonesiana è ottima. Quella giapponese e quella cinese sono tutte cucine ottime. Con cibi genuini e freschi. Quindi adesso si aggiunge la soia. Questa soia speciale cinese. Perchè gli da un po' di colore più scuretto. Poi vedete ci sono anche dei fiori strani mai visti. Non so che pianta sia questa. Sto aspettando che esca il fiore. E poi belle piante. Però da queste parti sembra che le piante le puoi mangiare. Capito? Sembrano commestibili. Anche questa. Sembra un basilico. Questa no. Che comunque fai l'occhio. È come con i funghi. Te ne accorgi di quelle che si possono mangiare e di quelle che non si possono mangiare. Poi hanno qua in Filippina questa che sembra menta. Ma una menta gigante. Che dice che fa bene per la tosse. Ma vedete è come la nostra menta. Però più grande. Anche le foglie. E anche l'odore sembra menta. Stanno aggiungendo cavoli cinesi. E questo qui è una specie di dado. In polvere. Poi si aggiunge il sale. Quindi è quasi pronta. Come al solito Coca Cola. Ah poi vedete qua si compra il ghiaccio. Capito? Si compra il ghiaccio. Si compra il ghiaccio. Si taglia e si mette dentro una caraffa. Quindi adesso stanno mettendo una speciale erba al limone. Cioè di limone. Si chiama erba al limone. E per ultimo il latte di noce di cocco. Quindi la Coca Cola vedete. Nella caraffa. Quindi per ultimo si aggiunge la cipolla selvatica. E il cavolo cinese. Adesso si può aggiungere il latte di noce di cocco. Quindi è pronto adesso. Quindi adesso andiamo all'assaggio. Ok è pronto. Cioè scusate è pronto. Quindi ci beviamo anche una bella Coca Cola. E grazie per i 9400 iscritti. Wow. Siamo quasi a... No. 9420. Grazie a Auxilia Donno. A Roberto. Di NoCopyRise. Rascepiano. Emanuele Agostino. E la voce fuoricampo. E grazie a tutti quelli del gruppo Telegram. Che mi dimentico. Quindi adesso andiamo all'assaggio. Ok. Vediamo. Un pezzo di carota. Un pezzo di carota. Un pezzo di carota. Ma io voglio il pollo. Eh eh. I want the chicken. Chicken? Ok. Let me try the chicken. Ok. Because it's very hot. Si è caldo ma è buono. Mmm. Let me call you. Quindi è uscita la ricetta buonissima. Buonissima consigliata. Di gallina o comunque pollo al curry. Con la noce di coco fatta alla maniera filippina. Quindi se vi piacciono le nostre ricette. Continuate a seguirci. Iscrivetevi. Al prossimo video. Ciao. Nella prossima video ricetta.